interesse anche oggetto di molte domande sono le nuove terapie le nuove terapie in arrivo o già in atto in realtà sperimentali o comunque già in corso che sono quelle per esempio persone chiedono su anticorpi monoclonali oppure nuovi antiretrovirali oppure eventualmente si è sentito parlare anche dei parassitari come l'ivermectina che potesse avere un effetto che cosa ci può dire professor di perri su questo su questa parte qui interessante che riguarda quindi cosa fare quando si è malati sì dunque allora questo è un approccio diverso sia rispetto al vaccino che rispetto alla terapia del paziente ospedalizzato qui si crea se vogliamo un nuovo contesto quello del paziente diciamo infettatosi di recente e giudicabile secondo quanto abbiamo imparato su questa malattia al rischio di evoluzione noi sappiamo che un 50 per cento dei pazienti va incontro a un'infezione del tutto asintomatica un 30 per cento sviluppa una forma che si risolve in pochi giorni che assomiglia a una banale influenza purtroppo un 20 per cento rischia di avere una malattia evolutiva che lo può portare in ospedale lo può portare anche al rischio di vita quindi qual è qui il diciamo la strategia di intervenire nei primissimi giorni su quei soggetti che noi consideriamo per età per comorbidità al rischio quindi questo fa riferimento a che cosa a questa strana dinamica della infezione da sars cov 2 ovvero che è inizialmente una malattia infettiva vera e propria è una polmonite virale all'inizio poi però si trasforma nel giro di una settimana in una malattia infiammatoria a quel punto gli interventi sul virus contano molto poco non contano affatto e si lavora molto di più sulla gestione sulla modulazione di quella che è questa questa eccessiva infiammazione che fa parte del quadro clinico della malattia quindi che cosa si fa soggetti ritenuti a rischio per età per comorbidità obesità diabete ipertensione broncopremopatie croniche che vengono invitati rapidamente a recarsi in un centro di somministrazione dove si possono usare che cosa i monoclonali monoclonali sono anticorpi veri e propri che rappresentano se vogliamo il distillato di ciò che di cui abbiamo sentito già parlare il cosiddetto plasma dei guariti nel plasma dei guariti esistono miriadi di anticorpi diversi lo studio di questo plasma ha fatto sì che venissero riconosciuti alcuni anticorpi in particolare che sono evidentemente capaci di neutralizzare il virus meglio di altri questi anticorpi sono stati di fatto copiati e prodotti in laboratorio in linee cellulari e praticamente resi farmaci a questo punto cosa la strategia qual è un'infezione nei suoi primi giorni diciamo viene aggredita con la somministrazione di questi anticorpi e abbiamo dei risultati che stanno a dirci sostanzialmente che c'è un sebbene impiegati questi anticorpi soprattutto in una fase precocissima riducono del 50 per cento quello che è il rischio di ospedalizzazione e questo è un bene non solo a livello evidentemente della cura del singolo paziente cioè inteso in senso medico ipocratico ma è un bene anche per quanto riguarda quello che è la riduzione di oppressione diciamo dei nostri ospedali che in questo momento sono in grande affanno da questo punto di vista e ci sono dei criteri di selezione evidentemente cioè un soggetto di 25 anni senza fattori di rischio non è il candidato per la terapia con i monocronali lo è viceversa un soggetto che magari è di grossa corporatura che ha più di 65 anni e che presenta almeno una condizione di comorbidità cioè un'altra malattia cronica in terapia che sappiamo correlarsi al rischio di evoluzione della malattia covid 19 quindi questo è un po è un po il criterio abbiamo poi su cui sempre in questa finestra di opportunità cioè la fase precoce in cui il virus non ha ancora determinato danni si sta replicando e sta invadendo il nostro albero respiratorio ma in generale il nostro organismo ci sono antivirali in sperimentazione come il molnupinavir o un altro ha una sigla è noto come AT527 sono entrambi in sperimentazione a Torino la sperimentazione che è partita in questi giorni di fase 2 e 3 anche questi hanno la pretesa di andare a inibire la replicazione virale quindi di andare a fermare il virus nelle fasi precocissime anche per questi farmaci i candidati ideali sono evidentemente coloro che presentano un maggior rischio di andare incontro all'evoluzione della malattia